museo maranto sempre più realtà è stata costituita l'associazione appunto che si chiama museo marano era tempo che doveva essere fatta questa cosa finalmente siamo partiti ufficialmente niente ora c'è la prima cosa è il locale allo stadio la società ci ha fatto un paio di proposte dobbiamo vedere per bene tante cose e poi scegliere quella che può magari andar meglio sempre in collaborazione con l'unione sportiva rezzo e quindi si parte come te lo immagini questo museo una volta che diciamo il museo lo sogno la notte come me lo immagino non te lo so dire anche perché i locali proposti sono diversi quello che mi immagino è di far rivivere la storia dell'arezzo rifare vivere proprio dagli albori la storia dell'unione sportiva rezzo per questo innanzitutto dentro l'associazione ci sono tre ragazzi giovanissimi dell'arezzo uno è pino pellica no menchino neri e stefano butti che fan parte proprio dell'associazione e verranno coinvolti cioè tutti quelli che hanno voglia di darci una mano a livello di giocatori di tutto perché c'è bisogno di c'è bisogno di tutti ci sa da ringraziare tantissimo tanti ex che da tutta Italia ci inviano materiali e maglie foto filmati cioè sta arrivando veramente di di tutto e questa è una gioia ci vorrà tempo non è una cosa che si fa in due giorni uno perché i locali non erano locali adatti a questa cosa quindi dipende dove si va e ci sarà da fare tanto e noi siamo una società un pochino allo sbaraglio perché si passa per ora siamo già in deficit avevamo un capitale di 40 euro abbiamo investito non è bastato per creare l'associazione quindi il materiale c'è c'è da formare i locali ci chiedo tanta passione questa diciamo è quella che vi ha mosso sempre sicuramente la spinta verso il colore l'amore verso il colore amaranto è talmente tanta che ricercare materiale nuovo anche di stagioni che diciamo non sono alla portata di tutti anzi gradiremmo che chi avesse avuto nonni parenti più vicini avessero materiali che riguardano le stagioni prima della guerra ce le potessero anche anche dopo la guerra anche dopo la guerra per noi è tutto materiale che per far diciamo nascere lo spirito d'appartenenza ai colori amaranto nella città anzi se c'è aumentarlo ancora di più e creare un'ulteriore cultura calcistica amaranto in città sarebbe veramente gradito un apporto da parte di tutti e quindi